iniziano i sorti veri iniziamo a guadagnare io e te youtube io e te ho superato la soglia di 1000 follower sto a 1040 piano ho messo a cercare piano c'ho 1500 ore di visualizzazione all'anno devo arrivare a 4000 altri 350 video 20 anni di lavoro e la so picciolini stiamo a guadagnare so sordi veri piano piano e stanno a cercare me stanno dietro mi raccomando vendegliate tutto spazzoni adenti cibo per cani tavolette d'ercesso a me mi frega niente l'importante è che mi fai guadagnare e poi io e te insieme fammi i sorti grazie grazie